Visita il CREA di Arezzo per Susanna Cenni, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Conosco questa realtà da molti anni, soprattutto l'impegno sul settore forestale e quello vitivinicolo, fin da quando sono stata assessore in questa regione e quindi abbiamo anche combattuto per mantenere in questo territorio questo presidio di ricerca così qualificato. CREA sta attraversando un periodo complicato, delicato, siamo giunti al commissariamento perché per vicende sicuramente non è grege, però mi pare che ci sia la volontà di impegnarsi per superare questa stagione prima possibile. La Ministra, anche rispondendo a una mia interrogazione, si è impegnata proprio anche ad accelerare l'iter per l'individuazione del nuovo direttore e quindi per uscire dalla fase di commissariamento. Però mi sento di dire anche alla luce delle informazioni che questa mattina i due direttori ci hanno rappresentato con dati e dovizia di particolare che si tratta di una realtà che va assolutamente salvaguardata e soprattutto considerata uno snodo fondamentale dello sviluppo dell'agricoltura, dell'attività forestale, vitivinicola di questo paese e non soltanto. Nel corso della sua visita la vicepresidente ha così incontrato i direttori dei centri foresta e legno e viticoltura e denologia, ma anche tutto il personale. In questo momento sì c'è un commissariamento, ma c'è anche una rinnovata visione del ruolo che può avere l'ente da un punto di vista concreto rispetto alle problematiche del sistema agricolo, agroalimentare e forestale del nostro paese e si pone al centro di quello che è il sistema della ricerca per questo settore, che è anche in espansione, ma che certo ha bisogno anche di un assetto istituzionale stabile. Grazie.